Grazie Viva l'ippodromo Parco della Favorita Bravissimo Grazie 18 dicembre Un giorno importante per la città Un giorno importante per lo sport Un giorno importante per l'ittica Riapre l'ippodromo Il meraviglioso ipodromo Parco della Favorita E qui siamo nella retro bottega Siamo nello spazio Riservato ai Cavalli di Gran Premio Quindi la parte di eccellenza Rispetto al resto delle scuderie Da questo punto di vista Da qui parte un messaggio Di grande speranza per il futuro Un grande impianto Che verrà anche utilizzato Per grandi manifestazioni concertistiche In modo da poter attrezzare la città Non soltanto del suo tradizionale Ippodromo ma anche Di uno spazio di straordinaria bellezza Di grande dimensione Utile per attività concertistiche E' un giorno importante per Palermo Auguri Grazie a tutti Grazie a tutti